Rinnovare una scuola materna senza più classi e utilizzarla come asilo nido accade a Broglio, nel comune di Castiglion Fiorentino. L'asilo nido si chiama Trilli, ha aperto i battenti all'inizio del mese di ottobre e ospita 25 bambini. Il nostro nido Peter Pan, il nostro nido storico, non era in grado di accogliere le tante richieste che pervenivano ed è per questo che nel momento in cui abbiamo avuto la comunicazione ufficiale del fatto che la scuola dell'infanzia Broglio sarebbe stata chiusa per quest'anno ci siamo subito attivati per trovare un nuovo spazio per raccogliere i bambini di questa fascia di età piccoli ed è per questo quindi che abbiamo ritenuto che questo fosse stata una grande opportunità. Oggi quindi i bambini castiglionesi che frequentano le due strutture comunali gestite dalla cooperativa Coine sono 73, 48 allo storico nido Peter Pan della Pievuccia e 25 a questo di Broglio. Noi abbiamo contribuito per quello che ci è stato chiesto, siamo molto orgogliosi di concorrere a una politica che non è fatta di chiacchiere ma è fatta di risposte. Questa particolare situazione che si è venuta a determinare fa pensare anche a un'inversione anche demografica a Castiglione Fiorentino? Ma purtroppo no, la decrescita demografica aveva di fatto provocato la chiusura della scuola materna di Broglio e abbiamo colto questa opportunità che adesso permette di mantenere un baluardo della pubblica amministrazione sulla fascia di Broglio al servizio delle famiglie per un nido che raccoglie nuove domande e quindi dà risposte alle famiglie con bambini appena nati. Grazie.